Con il numero 33 Ferdinando Coppola, con il numero 2 Roberto Vittiano, con il numero 3 Cristiano Deo Grosso, con il numero 13 Luca Rossettini, con il numero 19 Claudio Terzi, con il numero 8 Capitano Simone Bergazza, con il numero 36 Francesco Bolzoni, con il numero 18 Gennaro Toroi Agnero, con il numero 10 Ferreira Notiva Reginando, con il numero 9 Zanotto.